Nel 2011 Xenoblade Chronicles riuscì a incarnare appieno Quello spirito JRPG che sembrava avere smarrito la bussola In un mercato reso saturo da JRPG sempre più occidentalizzanti Sia nelle forme che nei contenuti Xenoblade Chronicles seppe fare un passo indietro Nel tentativo di riabbracciare le origini del genere Carichi di aspettative, news dopo news Abbiamo passato gli ultimi mesi in trepida attesa Cercando di raccimolare più dati possibili Al fine di farci un'idea solida su quello che sarà il nuovo Xenoblade Chronicles X Un'idea che, dopo il video rilasciato qualche giorno fa È andata ad alimentare le nostre speranze più recondite Seppur narrativamente slegato dal suo prequel Xenoblade Chronicles X promette già da ora una profondità tematica non indifferente La Terra è letteralmente distrutta Esplosa in un milione di pezzi durante un conflitto planetario E quei pochi sopravvissuti sono costretti a migrare a bordo della gigantesca madre nave Chiamata White Whale alla volta dello spazio siderale Con alle spalle i frammenti di un pianeta in frantumi e davanti a sé l'ignoto La White Whale comincia a naufragare alla deriva nello spazio profondo Finché non entra nell'orbita del pianeta Mira Un pianeta simile alla Terra che potrebbe permettere la salvaguardia del genere umano Durante l'avvicinamento a Mira la White Whale viene attaccata dagli eni ostili E, distruggendosi in diversi segmenti, è costretta ad un atterraggio di emergenza Una volta giunta a Terra la comunità umana non si dà per vinta E si mette subito al lavoro per creare una colonia evitabile Dopo due mesi estenuanti di lavoro, la ex White Whale è diventata una colonia umana in tutto e per tutto E viene ribattezzata New Los Angeles E sarà qui, in questa Los Angeles galattica, che il nostro protagonista prenderà parte all'avventura Dopo essere naufragato in una cellula di salvataggio al momento dell'attacco alieno Il nostro personaggio viene salvato da Elma, uno speciale agente di recupero Elma fa parte di una speciale squadra chiamata Blade che si occupa di trovare e assistere i naufraghi della White Whale Sono passati due mesi dal naufragio e il nostro personaggio avrà molte cose da apprendere in breve tempo È Elma che ci conduce passo dopo passo dopo il nostro risveglio presentandoci sia a New Los Angeles che il pianeta Mira Quello che salta subito all'occhio è l'immensità degli spazi nei quali dovremo muovere i primi passi Cominciando da New Los Angeles, noteremo fin da subito come essa sia divisa in vari settori ognuno dei quali avente delle funzioni ben specifiche Le prime aree presentate saranno il quartiere residenziale dove si potrà fare la conoscenza ed allacciare rapporti interpersonali con tutti i PNG presenti nella zona e l'area commerciale dove sarà possibile fare acquisti che riguardano gli oggetti di gioco Tra le sezioni più importanti di New Los Angeles ci sarà l'area industriale dove si potranno assemblare e modificare i dolls matcha giganti che ci aiuteranno nel corso dell'esplorazione di Mira e il quartiere generale Blade La Blade Area è la zona dove risiede il governo di New Los Angeles centro nevralgico, politico e militare e dal quale ci prepareremo alla volta dell'esplorazione di Mira È qui di fatti che si trova il cuore dell'intera avventura presentata da Monolith Soft Perduti su un pianeta sconosciuto sarà nostro compito esplorarlo a fondo al fine di trovare quelle risorse necessarie per andare avanti nell'avventura L'esplorazione di Mira sarà possibile attraverso una speciale mappatura grafica di tutte le zone attorno alla colonia Attraverso il Frontiernet, un reticolato digitale potremo mappare le zone che ci interessano per partire ad esplorarle Ogni zona verrà divisa in esagoni all'interno dei quali potremo trovare delle quest specifiche Per accedervi bisognerà per prima cosa effettuarvi un sopralluogo raggiungendo nel centro Una volta arrivati al punto esatto indicatoci dalla mappa sarà possibile installare un dataprobe una speciale trivella che si installerà nel suolo e ci darà i dati necessari a mappare l'intera zona La forza di questa prima accurata presentazione di Xenoblade Chronicles 6 sta tutta nell'impatto visivo a dir poco stupefacente Mira è talmente vasta e selvaggia che sembra vivere di vita propria con molti paesaggi talmente diversificati tra loro da rendere il tutto ancora più credibile Il pianeta si divide in 5 continenti ben specifici ognuno dei quali molto differenziato dagli altri Potremo esplorare una landa verdeggiante e selvaggia per poi andare a finire in una foresta luminescente abitata da piante gigantesche passando per un arido deserto fino ad arrivare ad un continente invaso dalla lava o da ceneri bianche Insomma, ciò che i ragazzi di Monolith vogliono dirci è che Mira esiste, selvaggia e primordiale ed è là, dinnanzi a noi, pronta per essere esplorata L'esplorazione alla ricerca dei Life Points cioè le capsule di salvataggio che contengono i superstiti della White Whale sarà la chiave del titolo e proprio a causa dell'immensità delle mappe sarà possibile utilizzare alcuni scamotage per velocizzare gli spostamenti Primo fra tutti, una volta che il nostro personaggio sarà in campo aperto oltre a correre potrà sprintare con un tasto apposito Oltre alla possibilità di effettuare un dash una volta arrivati ad un certo punto dell'avventura sarà possibile prendere una speciale patente con la quale condurre i Dolls giganteschi match che ci aiuteranno nell'esplorazione Essi potranno sia trasformarsi in veicoli dotati di ruote che volare rendendo raggiungibili le zone che in precedenza non potevano essere raggiunte Durante l'esplorazione di Mira un ruolo fondamentale oltre ai Dolls lo avranno le bestie che troveremo La fauna è variegata e diffusa in tutto il pianeta e non mancheranno le missioni di mappatura anche di essa Tutte dal design ispiratissimo alcune bestie che incontreremo sul nostro percorso saranno talmente grandi da doverci obbligare ad aggirarle e qualora si rivelassero ostili saremo obbligati ad affrontarle Non sempre riusciremo a farlo e dai momenti come questo che di vitale importanza sarà il modo di fuggire sia a bordo di veicoli che con le proprie gambe Tra queste bestie se ne nasconderanno alcune di molto particolari dotate di un nome proprio che avranno abilità e poteri speciali nascosti e che non potremo prevedere fino al momento del loro utilizzo Ad avvalorare la tesi dell'incredibilità dei contenuti che Mira vi potrà offrire vi ricordiamo che sul nostro cammino non troveremo solo bestie ma anche alieni più o meno amichevoli con cui intavoleremo scambi commerciali, sub-quest o talvolta, quando non avremo scelta, cruenti scontri Per quello che riguarda i personaggi giocanti invece non possiamo ancora sbilanciarci più di tanto vista la totale assenza di informazioni a riguardo L'unica cosa che potremmo sottolineare forse è la mancanza di ispirazione che abbiamo notato in alcuni personaggi non giocanti nei quali è visibile un character design un po' troppo vecchio per essere riproposto su console definita di nuova generazione È una sensazione nulla di più e per farci un'idea più chiara considerando il lavoro immenso che Monolith ha fatto per l'intero pianeta di Mira dovremmo aspettare il 29 di aprile data ufficiale di rilascio del gioco nel paese del sollevante Considerando il suo predecessore su questo Xenoblade Chronicles 6 non possiamo che nutrire immense speranze Il mondo di Mira sembra veramente sconfinato e pulsante di vita come non mai al punto tale che se venisse affiancato da un gameplay classico e puro come già Monolith Soft ci ha abituati potremmo senza dubbio avere davanti un capolavoro di assoluta qualità Gli unici dubbi sono legati tuttora alla release europea non ancora fissata che un po' ci fa temere per la nostra sorte Intanto aspettiamo il 29 di aprile data di rilascio del titolo in Giappone per farci un'idea chiara su quello che sarà il successore spirituale di Xenoblade Chronicles dopodiché non ci resta che sperare di poterci tuffare al più presto anche noi nello straordinario mondo di Mira la rilevo della squadra ci ha切itato Grazie.